Altra carognata, hanno portato la pappa agli altri e il piccolo sta a guardare, forse si butterà di sotto, vediamo. Vorrebbe buttarsi di sotto ma ha paura. Avevo deciso di non guardare più, accidente a me sono andato a guardare e guarda che ti trovo, la madre che è andata a mangiare agli altri e il piccolo al balcone che rimane di giuno. Vorrebbe buttarsi di sotto e non sa come fare, perché con le zampine non arrivano al bordo e poi, poi, se va di sotto dopo non risale più, perché non ha ancora la forma. Forza, a stento ce l'hanno i fratelli, la forza di rientrare dopo molti tentativi, figuriamoci lui, lì si intravede la madre, se stava ancora un po' avrei visto l'arrivo, guardatelo poverino, mangia le penne e il vento gli porta sul becco. Anche se ce la facesse a scendere giù, ormai non troverebbe più niente. E' una scena straziante. I bravi professori saccenti che hanno sempre da ridire sui miei commenti possono dire quello che gli pare, ma questa è una scena straziante. La natura è la natura, dite quello pontificate quanto volete sulla natura, sulla saggezza della natura, io me ne frego. Questa è una scena straziante. Una delle tantissime, guardate, ha preso una penna. Sta mangiando una penna che gli è capitata sotto il becco, poverino. Ma guardate che pena. ecco, e ora la stronza o lo stronzo non si affisce bene, se ne va, dopo aver rilasciato il piccolo a bocca asciutta, ancora una volta, ancora una volta. Gli altri tre, vedete, tutte e tre giù sono. Per un attimo si sono viste le tre teste. Hanno mangiato tranquillamente. Lui si affaccia, non ha il coraggio di scendere, non ce lo fa. Gli mancano ancora due o tre giorni per essere in grado di scendere. Perché fra lui che è l'ultimo e il primo ci sono sei giorni di differenza. E il primo è sceso giù, l'altro ieri. Quindi. L'unica speranza è che i fratelli rientrino al nido e che arrivi un pasto notturno, come ieri, verso le quattro e mezza. La verità è che la natura fa schifo se la guardi bene. Giacomo Leopardi, che era un grande, aveva ragione da vendere quando ha scritto il giardino segreto. Andate però a leggere, sapientoni, che pontificate inneggiando a madre natura che è peggio di una matrigna. Ah, ma a tutto c'è un perché, certo. Anche i serial killer hanno un perché a tutto quello che fanno. è meglio che chiuda qui, non voglio vedere altro.